ciao ragazzi ciao a tutti giornalista Ziliani del fatto quotidiano qualche settimana fa scrive e dice testuali parole dice che alla FGC ci sono tutti figliocci di gravina e eh che riguardano poi tutti eh ad una squadra cioè tutti sono compresi in una squadra ovvero sia eh parla anche dei tifosi della Juventus in FGC il giornalista scrive dovete sapere che agli occhi di gravina Antonio Tagliani è una specie di Madonna di Lourdes e non solo per il fatto di essere tifoso della Juventus quindi in FGC ci sono dei tifosi della Juventus al punto il signor Tagliani non lo dico io lo scrive il giornalista del fatto quotidiano Ziliani quindi il signor Tagliani che fa parte della FGC è talmente tifoso della Juventus un uomo di gravina colui ha salvato dal baratro la Juventus al punto di aver portato il regalo al vice premier degli Emirati Arabi Abdullah bin Zayed nel corso di un incontro ufficiale tra i governi ed Abu Dhabi ebbene sì una maglia personalizzata della Juventus noi siamo in mano a questa gente qua noi siamo in mano a dei tifosi della Juventus gravina in quel periodo mentre Tagliani a detta di Ziliani portava la maglia al premio degli Emirati Arabi eh gravina era impegnato a salvare il culo lo scrive Ziliani non lo dico io gravina quel periodo era impegnato a salvare il culo a madama da processi sportivi con il patteggiamento farza cancella illeciti ora io voglio dire eh sia il signor Spalletti che il signor Gravina si dovrebbero dimettere perché hanno fatto eh hanno fatto eh flop hanno fatto puff hanno fatto un fiasco clamoroso purtroppo non sono questi signori secondo me a livello di Roberto Baggio e nel duemiladiciassette propose alla FGC un piano eh diciamo eh mise sul tavolo novecento pagine di come risollevare il il calcio italiano non gli fu dato seguito e lui disse signori a me lo stipendio non mi interessa quindi eh sia il signor Gravina il signor Spalletti fingono il mea culpa secondo me siamo nel punto più pazzo della storia del calcio italiano rischiamo ancora di non andare al mondiale il signor Spalletti è vero e non aveva dei fuori l'asse ma io mi ricordo il signor Conte che a me non sta simpatico per nulla che con Eder Pellè Giaccherini fece una bellissima figura perché poi quando non ti impegni quando non corri quella è colpa dell'allenatore Luciano cioè quando te perdi palle non vai ad ad aggredire gli avversari quella non è colpa del giocatore forte o meno forte perché quella è colpa tua e non sei riuscito a motivare i giocatori tra l'altro se tu avessi fatto meglio le convocazioni secondo me tu avessi avuto un po' più di coraggio e se tu fossi stato un po' più elastico non 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 saremmo stati presi appallonate dalla Svizzera a Carlo Luciano anche perché siamo passati e questo è dimostrabile non è opinabile siamo passati in venti giorni da grazie per il blocco Inter hai colpa del blocco Inter quindi te offendi anche i zaghi caro Luciano secondo me dicendo che eh i giocatori dell'Inter che avevano vinto tutto a marzo non si sono allenati o si sono allenati poi o è male te indirettamente perdi la brocca come di tuo solito eh indirettamente offendi anche dei tuoi colleghi e questo a maggior ragione dimostra il fatto che te non sai perdere perché caro Luciano bisogna sapere anche perdere ma ormai eh ovviamente siete tutti attaccati alla poltrona soprattutto Gravina che si è triplicato lo stipendio nessuno di voi ha avuto il coraggio di dare le dimissioni nonostante abbiate dimostrato di non essere in grado di fare nulla perché te Luciano cioè te mi dovresti spiegare ora no anche anche il ragazzo Fagioli cioè che messaggio dai a convocare Fagioli cioè te parli del blocco Inter che si è allenato male allora mi spieghi quanto si è allenato e quanto ha giocato Fagioli quest'anno Luciano mi spieghi perché fai giocare un Di Lorenzo veramente da pomodori con tutto rispetto per il ragazzo e non fai giocare nemmeno un minuto ad un ragazzo che si chiama Bellanova che per triblig riusciti è il migliore esterno della Serie A questo ti dovrebbero chiedere a Luciano ma te sei rimasto attaccato alla poltrona ti hai sessantacinque anni quegli altri devono mangiare la pappa e noi non dobbiamo mangiare nulla Luciano ci siamo rotti i coglioni perché hai fatto flop quindi volete continuare continuate pure ma il risultato secondo me è scontato con voi due ciao intenzione